Buongiorno, sono Raffaella Menolfi, ho frequentato l'Energeti Club. Sono molto soddisfatta del percorso che ho fatto, molto utile ogni mese sia la possibilità di lavorare su dinamiche specifiche e un po' alla volta si vedono delle trasformazioni profonde. Quindi lo consiglio a tutti chi ha dei problemi, chi vuole conoscere meglio se stesso, chi vuole raggiungere i propri obiettivi e non sa come fare, consiglio a tutti di iscriversi all'Energeti Club perché è un percorso in cui si è guidati, si è protetti. Ci sono due splendide guide, Anna Maria Ghinet e Giuseppe Scaffarelli, che seguono e ci aiutano veramente a scavare in profondità dentro di noi. Quindi grazie a tutti e vi invito, se avete bisogno di una mano e sentite di non farcela da soli, a iscrivervi all'Energeti Club.